Il Natale è un viaggio dentro ognuno di noi, è volare nel tempo, è un ritorno di felicità, quella perduta e mai dimenticata. Il Natale è il suono delle campane che sorridono e fanno festa, e sentirsi stretti dentro un unico cuore. Buon Natale! Il Natale è il nostro video, il Natale è un viaggio, è un viaggio, è un viaggio, è un viaggio, è un viaggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.